Grazie di maggio Fratelli d'Italia. Arriva in aula il premio maestro della cucina italiana, una proposta di legge che noi abbiamo fortemente voluto, il ministro Lobrigida è stata sostenuta da Fratelli d'Italia, questo perché mette al centro la valorizzazione del Made in Italy, la valorizzazione delle nostre eccellenze. Con questo premio noi vogliamo dare il giusto riconoscimento a tutti coloro che sono impegnati durante la propria carriera professionale, durante il proprio percorso e che hanno utilizzato anche materie prime tipiche di un determinato territorio. Ecco perché si ricollega anche alla proposta di rendere la cucina italiana come cucina dell'UNESCO praticamente, candidata all'UNESCO e pensiamo che questo sia un disegno di legge che va anche nell'ottica di un altro progetto che Fratelli d'Italia ha portato avanti e ha realizzato che è quello del liceo dei Made in Italy. I ragazzi potranno formarsi all'interno di queste scuole all'interno del nostro liceo e imparare a valorizzare tutti quei prodotti, tutte quelle tipicità che fanno grande l'Italia nel mondo, anche grazie a questo premio.